Eccoci, ripartiremo dalle parole di Zelensky in studio, il commento dei nostri ospiti e poi tutti gli inviati collegati, cominciamo tra pochissimo. Allora, eccoci qua, le immagini del congresso americano, l'applauso per Zelensky che ha appena finito di parlare. Apriamo un attimo l'audio e vediamo se aggiunge qualcosa, il congresso è tutto in piedi ad applaudire, il presidente Zelensky ha detto diverse cose, è stato chiuso a questo punto il collegamento. Tra le cose me ne sono segnate alcune, quelle che ci hanno colpito particolarmente, ha detto che l'Ucraina vive da tre settimane il suo 11 settembre, ha detto che quello della Russia è un attacco ai valori, è un attacco ai sogni dell'Ucraina e ha detto, rivolgendosi agli americani, i nostri sogni sono gli stessi che avete voi e quindi il riferimento all'11 settembre, il riferimento al sogno americano di libertà e poi la richiesta ancora di nuovo della no fly zone, ma dice Zelensky vi offriamo un'alternativa, se la no fly zone non la volete fare, e beh almeno dateci gli aerei, ci servono quegli aerei perché ci colpiscono dal cielo e l'evocazione dell'11 settembre non è casuale, ci colpiscono dal cielo, dateci una mano a difenderci voi quegli aerei e ce li avete, dice Zelensky, ma non li vediamo sui nostri cieli. E poi ha parlato anche delle sanzioni, una serie di questioni, toccate da Zelensky che commenteremo con i nostri ospiti. Intanto vi porto sul terreno e cioè vi porto, comincio da Kiev e comincio da Gianluca Panella. Come sapete Kiev, la capitale, è in coprifuoco da ieri. Gianluca, eccoci. Buongiorno. Bentrovato. Dimmi dove sei intanto, perché io dicevo coprifuoco di 36 ore, lo abbiamo detto ieri, è partito ieri sera e quindi tu sei? Io sono in hotel. Ok, perché tu ieri ci avevi detto che forse con il tesserino si poteva uscire, invece immagino che neanche con quello ci si possa muovere, giusto? No, non ci permettono di uscire. Oggi è una giornata in cui non ci permettono di andare in giro. Avevamo pensato magari a piedi perché noi avevamo il permesso e il nostro driver non ce l'aveva ovviamente, ma non ci fanno uscire, non ha molto senso oggi. Senti Gianluca, che tipo di giornata è stata fino a questo momento? Tante sirene? Facci capire qual è il clima che si respira. Allora, abbiamo sentito dei colpi di artiglieria sicuramente in partenza, non in arrivo. Quindi sicuramente stamattina c'è stata una risposta da parte dell'esercito ucraino. Ma per il resto direi diverse sirene, soprattutto lunghe, che sono quelle che ci fanno pensare a un bombardamento vero e proprio. Altre sirene sono meno ripetitive, meno insistenti, quindi ovviamente abbiamo imparato a dividere i due segnali. Ce n'è uno più insistente e uno più rapido e meno insistente. Quindi la giornata va un po' così, facendo attenzione ai segnali, sentendo i colleghi negli altri hotel che situazione vedono o sentono. Sono aumentate le guardie davanti ai nostri alberghi, sono aumentate le guardie qui davanti nella piazza. C'è ovviamente un clima di maggiore attenzione. Scusami, Gianluca, tu dicevi che avete imparato a distinguere i due diversi tipi di segnale d'allarme. Ma questo vuol dire anche che vi regolate a seconda del segnale rispetto al fatto, per esempio, di andare o non andare in un rifugio? Perché tu sei in albergo e in questo momento immagino che non stia suonando nessun allarme. No, no, infatti sono qua fuori in questo momento perché non sta suonando nessun allarme. È una distinzione che ho trovato io, che non è niente di ufficiale, non è che l'allarme breve o l'allarme lungo non ci hanno comunicato delle differenze. Però abbiamo ovviamente riconosciuto delle differenze tra i due segnali. E siccome dobbiamo scendere giù nel semi-interrato dell'albergo, nei sotterranei della struttura, ovviamente se dovessimo scendere per ogni allarme, per ogni sirena, saremmo sempre avanti e indietro per le scale. Esatto. Quindi dobbiamo un attimino diversificare il tipo di segnale, ecco. Gianluca, ci richiedi tu la linea quando lo ritieni. Ovviamente torniamo da te più avanti nel corso della puntata. Intanto io mi sposterei e andrei da Alfredo Bosco, che dovrebbe essere a Micolaive, corretto Alfredo? Buongiorno a tutti, mi spiede? Non lo vedo, eccolo. Sì, ti sentiamo. No, in questo momento io sono tornato a Odessa, ma sto in direzione di Micolaive, perché mi sono dovuto avviare insieme a dei colleghi nella parte ovest della blast di Odessa, quindi della regione amministrativa, dove sono stati colpiti due villaggi lungo le coste. Il villaggio di Tuzli, o Tuzla in russo, e il villaggio di Mirne. E tu mi puoi confermare, perché avevamo letto di questi razzi, tu me lo puoi confermare, quindi? Assolutamente. Il villaggio di Tuzli è stato colpito da una serie di grad nella notte, mentre il villaggio di Mirne, per fortuna, come nel caso di ieri, un missile aereo ha colpito poco fuori il centro abitato. Mentre la notizia che Odessa è stata attaccata non è da confermare. Odessa ha avuto una serie di allarmi antiaereo, ma il centro non è stato mai colpito, neanche le zone periferiche. I villaggi di cui parli, quanto sono lontani da Odessa? I villaggi sono il villaggio di Tuzli, è a 112 chilometri dal centro di Odessa, il villaggio di Mirne pochi chilometri più all'interno. Stiamo parlando di due ore di macchina. Ok, quindi la tua sensazione è che certo ci sia un'aggressione che si fa più forte, un avvicinamento ad Odessa, ma che ancora si sia lontani? Infatti, bisogna assolutamente tenere in considerazione che oltre quindi a est, a proprio la città di Micolaiv, dove mi sto avviando, da giorni i russi stanno avanzando, l'esercito russo sta avanzando e in questo momento, anche come temeva il sindaco Trukanov, anche la parte ovest viene attaccata. Quindi si teme quella che si chiama manovra a Tenaglia, quindi due fronti che poi stringeranno verso Odessa. Ma è successo ieri, ora nella parte ovest, si deve vedere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, che cosa succede. Grazie per il momento Alfredo, poi torniamo da te e anche da te più avanti nel corso della puntata. Mi aprite Elena, che invece è a Leopoli, quindi ci spostiamo a nord-ovest. Elena, eccoci. Buon pomeriggio Tiziana, io mi trovo qui in un androne, come vedete anche qua ci sono i sacchi di sabbia e ti dico, abbiamo notato qualcosa di differente a Leopoli anche oggi, eravamo nel centro storico, abbiamo visto alcuni edifici dove venivano messi dei pannelli a protezione, ma dopo insomma torneremo anche su questo punto perché Leopoli, come abbiamo detto negli ultimi giorni, la sensazione è che ci sia sempre più paura. Poi speriamo che non accada niente, che non arrivino anche qua i bombardamenti, ma c'è una preoccupazione sempre maggiore. Io oggi vi sto portando in questa stanza che era prima una palestra dove venivano i ragazzi ad allenarsi, qui non c'è più una palestra, questi sono dei giacchetti, delle tute, qui vengono portati alcuni materiali per l'esercito, per i soldati al fronte, siamo in una chiesa, non possiamo dire quale chiesa perché ci è stato chiesto che per motivi di sicurezza il nome non venga svelato e poi ci sono anche tantissimi kit di primo soccorso. Questi sono arrivati da pochissimo tempo, noi eravamo qui e sono le cose che mancano maggiormente ai soldati che stanno combattendo e le chiese fanno da tramite, da supporto quando manca qualcosa ai soldati al fronte. Non c'è solo questo perché chiaramente c'è l'aiuto ai cittadini, ci sono ad esempio i beni di prima necessità che vengono spediti in tutte le parti dell'Ucraina, ci sono delle altre stanze qui accanto, dopo vi portiamo, dove vengono anche aiutate le persone che arrivano dalle zone più colpite, quelle che poi dopo però non se ne vanno di fatto, rimangono qui e rimangono ad aiutare chi è rimasto nelle città, nelle città come Kiev, come Kharkiv, come ad esempio città più colpite come Mariupol anche se abbiamo incontrato un parroco che è tornato da poco e ci spiegavano che la situazione lì è estremamente difficile e che quindi portare aiuti di prima necessità è semi impossibile. C'è poi Zaporizia che, come ben sappiamo, è stata sotto attacco, anche lì poi vi racconteremo una storia, ma ci sono tanti piccoli paesi che noi magari non sentiamo nominare nella quotidianità, ma che effettivamente sono sotto attacco e che non riescono ad essere raggiunti. E per quali quindi si fugge e si arriva a Leopoli. Esatto. E c'è grande preoccupazione tra le persone che incontriamo che magari sono fuggite prima quando era ancora possibile e adesso non riescono a sentire i propri cari e quindi l'unico modo che hanno per aiutare è quello di raccogliere tutti questi beni di prima necessità sia per i propri concittadini ma anche per i soldati che sono al fronte. Grazie Elena per il momento. Apritemi anche Luca Sappino perché oggi è giornata anche di appuntamenti credo informativa del ministro Di Maio. Giusto Luca? Esatto Tiziana. Infatti ti chiederò la linea verso le 4 quando Di Maio comincerà a parlare alla Camera informando i parlamentari, i deputati sull'avanzamento del conflitto tra Ucraina e Russia. Però ti darò anche notizie sui lavori di Palazzo Chigi perché sul Consiglio dei Ministri domani quello che dovrebbe risolvere o almeno intervenire sul caro benzina c'è un altro, su quel tavolo c'è un altro provvedimento che riguarda la protezione civile e la catena di gestione del flusso di immigrati dall'Ucraina che sono 47 mila ad oggi e flusso che il ministero Palazzo Chigi si aspetta che crescerà quindi serve una nuova organizzazione anche per aumentare gli 8 mila posti al momento previsto dal ministero dell'Interno non un commissario sarà Fabrizio Curcio a gestire tutto ma insomma serve una riorganizzazione anche su quello ti darò notizie. Grazie Luca per il momento vado a salutare Andrea Purgatori conduttore di Atlantide volto notissimo di questa rete ben trovato Andrea Buon pomeriggio Tiziana e saluto Ettore Greco Vicepresidente IA Istituto Affari Internazionali Buon pomeriggio e grazie di rinvito Allora Alessio immagino che le agenzie e l'apertura dei siti siano tutte sulle parole di Zelensky partiamo da lì Sono tutte sulle parole di Zelensky esatto uccisi 10 civili in coda per il pane un 11 settembre da tre settimane con la richiesta di una zona di divieto di sorvolo sui cieli dell'Ucraina che Zelensky ben sa che non può essere in questo momento accolta tant'è che ha detto esiste un piano di recupero cioè dateci gli aerei c'era stata la vicenda dei MIG polacchi che però era finita in un mezzo pasticcio e non si era concretizzata altrimenti saremmo costretti a difenderci e a continuare a difenderci dalle bombe che arrivano Allora in premessa Andrea ti chiedo che Zelensky hai visto ad un certo punto ha citato Martin Luther King I have a dream e poi ancora ha parlato dell'11 settembre e ha detto noi siamo in un 11 settembre da tre settimane questo è il nostro 11 settembre quindi oggettivamente ha utilizzato diciamo parole che agli americani arrivano mettiamola così Sì ma non c'è dubbio che Zelensky fin dall'inizio di questo conflitto sul piano della comunicazione sia stato estremamente più efficace di quanto non lo sia stato Putin è chiaro che parlando agli americani ha usato diciamo queste immagini per cercare di emozionarli e anche di avere non soltanto una solidarietà sotto forma di applausi ma anche sotto forma di aiuti cosa che peraltro gli Stati Uniti hanno già garantito di voler dare sa benissimo che non otterrà né la fly zone né gli aerei polacchi che peraltro per i russi sarebbero un po' come fare il tiro al piccione perché si tratta di aerei molto obsoleti quindi diciamo quello che lui immagina sulla carta nella realtà sarebbe assolutamente inutile e poi comunque ormai la posizione diciamo dell'Occidente dove metto dentro sia la Nato che l'Europa è quella di non barcare la cosiddetta linea rossa che potrebbe creare uno scontro diretto aspetta che su questo andrei vorrei farmi aiutare anche da Ettore Greco dice Zelensky recuperiamo proprio il passaggio lui dice l'abbiamo già chiesta la richiediamo vorremmo la no fly zone perché questi ci attaccano ci attaccano da tutte le parti avremo bisogno della no fly zone siccome ci avete detto no e attenzione lui dice vorremmo la no fly zone per salvare la gente usa proprio questa espressione e aggiunge è troppo da chiedere e poi dice però siccome su questo ci avete detto no allora vi propongo un'alternativa gli aerei e cioè i sistemi antiattacchi mi aiuta a capire perché poi Andrea adesso ci ha detto gli aerei polacchi è a quello che fa riferimento? Andrea Burgatoria ha chiarito il punto cioè chiaramente Zelensky già in passato e ripetutamente aveva proposto queste alternative non solo gli aerei ma anche mi sembra questa volta non l'ha fatto in modo esplicito ma non ho ascoltato tutto il discorso ma anche un rafforzamento delle capacità anti-aerei come terza possibile alternativa perché sa che le altre due sono quindi no fly zone aerei e con ultima derivata che potrebbe materializzarsi in sistemi più complessi radar eccetera che però ovviamente non sono facili diciamo da portare lì e soprattutto in assenza di consiglieri militari in particolare statunitensi dei sistemi anti-attacchi mi perdoni se la interrompo per capire anti-aerei che consentano di contrastare i radar e anche eventualmente intercettori questa sarebbe l'idea per il momento naturalmente si sta concentrando su armi molto più semplici che sono portabili come sappiamo quindi sono quelle che poi hanno funzionato come gli stinger poi contro i carri contro i javelin su tutti questi tipi di armi che stanno arrivando in modo abbastanza efficiente e sono anche utilizzati in maniera efficiente quindi diciamo questa è un'altra possibilità non facile da percorrere in assenza naturalmente di consiglieri militari di capacità tecniche che al momento non ci sono però vorrei sottolineare una cosa per quanto riguarda questo discorso che ovviamente lui ha parlato anche in altri parlamenti abbiamo visto il Parlamento europeo quello polacco quello britannico questo discorso assume un significato particolare perché appunto al congresso americano e sappiamo che all'interno del congresso ci sono dei parlamentari anche di peso penso per esempio al leader democratico della maggioranza al senato Chuck Schumer che sostiene invece che bisogna in qualche modo aveva sostenuto l'ipotesi di inviare gli aerei e quindi che premono nella direzione di un sostegno militare accresciuto poi le forme in cui questo può prendere quindi sa che può avere che c'è una sensibilità al di là anche del riferimento a questo tasto sensibile dell'11 settembre che c'è una grande coesione all'interno degli Stati Uniti e del congresso a sostegno ovviamente dell'Ucraina è una cosa bipartisan assolutamente e ci sono però anche delle spinte a cercare di accrescere questo sostegno militare per cui certi sviluppi sul terreno potrebbero portare a rivedere questa posizione tecnicamente come diceva prima purgatori non si vede come si possa fare perché anche l'invio degli aerei chiaramente richiederebbe un controllo dello spazio aereo ora Zelensky ha fatto riferimento qualche volta a queste zone interdizioni aeree umanitarie ma non esiste la possibilità di circoscriverle quindi tutto ciò sul piano tecnico l'ha detto anche proprio quest'oggi credo l'ambasciatrice americana alla Nato Giuliana Smith che in effetti ci sono dei problemi tecnici che hanno valutato e che potrebbe rendere difficile questo invio e soprattutto poi inefficacia perché ovviamente essendoci una supremazia comunque se non un controllo totale perché non c'è il controllo totale da parte russa dello spazio aereo ucraino il rischio sarebbe che o i russi a certo punto si impadroniscono di questi aerei oppure che li abbattono facilmente e se li abbattono quelli comunque sono aerei che sono polacchi o americani diciamo è un problemino sarebbero comunque queste MiG-29 che sono gli unici che i piloti ucraini sarebbero in grado di pilotare no ma voglio dire si alzerebbe il livello dello scontro sarebbe un problema anche per quel motivo beh a quel punto se vengono usate dagli ucraini ovviamente la Nato non è direttamente coinvolta però certamente perché sta comunque inviando materiale il paese nato è stato inviando materiale giochiamo dentro questo equivoco aspetta che Alessio vuole intervenire torno anche da Andrea Nel frattempo si muovono le diplomazie e mentre Zelensky parlava al congresso degli Stati Uniti d'America vedete l'ultima linea del titolo di Corriere.it Kiev disponibile a neutralità come Austria o Svezia è una presa di posizione che è stata fotografata non da Kiev ma da Mosca che così ha tratto conseguenza dai colloqui che si stanno svolgendo anche se in realtà la parte ucraina ha fatto sapere che non è quello il modello a cui si guarda ma un modello che si va verso la neutralità rispetto alla Nato ma con garanzie di sicurezza degli stati esterni Allora Andrea intanto riparto da qui quali sono le garanzie di sicurezza le garanzie di sicurezza che vuole Zelensky sono quelle di tutto di tutta l'Europa della Nato dell'America cioè e quindi il concetto di neutralità passa per queste garanzie aiutaci a capire Ma guarda questa è la parte del bicchiere mezzo pieno nel senso che ormai da alcuni giorni sia da Mosca che da Kiev vengono dette delle cose che fanno prefigurare la possibilità di un accordo probabilmente prima un cessate il fuoco e poi un accordo che è un po' più difficile e più complicato da diciamo mettere nero su bianco però non c'è dubbio che io personalmente interpreto anche questa accelerazione emotiva di Zelensky che si rende perfettamente conto del fatto che la Russia si siederebbe al tavolo avendo una posizione di forza maggiore dopo avere conquistato più territori di quelli che pretende di avere e soprattutto dopo avere messo sotto assedio le città cioè si sta giocando una sorta di conto alla rovescia di cui sono entrambi diciamo consapevoli ma soprattutto gli ucraini che capiscono che se non c'è qualcosa che dà una svolta a questo scontro evidentemente loro sono in una posizione di estrema debolezza d'altra parte Mosca e chiudo ha chiesto che le due repubbliche autoproclamate del Donbass vengano riconosciute senza annessione la Crimea che ormai è sua ce lo dobbiamo dire inutile giocarci intorno la vuole a tutti gli effetti sta chiudendo la morsa su Mariupol perché quella è la bretella che porta dalla Crimea al Donbass e poi si siede al tavolo avendo sotto controllo diciamo le maggiori città ucraine oltre alle centrali nucleari per poter fare un gioco di scambio ma questo secondo me è il bicchiere mezzo pieno questo è il bicchiere mezzo pieno la Russia ha chiesto agli Stati Uniti di fermare la fornitura di armi all'Ucraina lo riporta l'agenzia Bloomberg citando Interfax non è la prima volta che avviene in queste ore dice datemi più armi anzi mettetemi le condizioni datemi gli aerei datemi la possibilità di avere sistemi antiattacco la Russia dice sempre gli Stati Uniti non date più armi a cosa dici Andrea? non è che oggi improvvisamente lo sta dicendo sta dicendo addirittura c'è stato il bombardamento nella base militare vicino a Leopoli che è esattamente quello che Mosca aveva annunciato cioè se voi date agli ucraini sostegno militare personale eccetera noi lo consideriamo un atto di aggressione ci comportiamo di conseguenza voleva dire Greco? no no appunto hanno detto varie volte che avrebbero attaccato questi convogli se riescono a identificarli ovviamente lo faranno questo sicuramente se ne hanno le capacità perché questo è anche un problema si stanno vedendo grandissimi è che la tempistica diciamo adesso ci colpiva è probabilmente voluta volevo dire una cosa sulla questione della neutralità allora Zelensky ha detto una cosa molto importante chiaramente l'Ucraina non si trova nella posizione dell'Austria nel 55 quando dichiarà per via costituzionale la neutralità e l'indisponibilità ad ospitare diciamo bassi straniere si troverà o si troverebbe nel caso di un accordo in una situazione di una guerra appena finita comunque con un vicino aggressivo che ha dimostrato la sua aggressività e quindi bisogna trovare un accordo bisognerebbe trovare un accordo per avere uno status che sia garantito da qualcuno ed è questo il punto mi fai dire un'altra cosa no no ve le faccio dire perché proprio voglio sapere appunto da chi le vuole le garanzie Zelensky però devo andare in pubblicità Andrea perché diciamo ho sforato già quei 4-5 minuti e tu sai che stanno per tagliarmi la testa andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo eccoci qua di nuovo in studio chiedo ai miei ospiti di essere un po' veloci in questa fase perché abbiamo molte cose a raccontare devo andare a riaprire gli inviati sono con noi Andrea Purgatore redettore greco Andrea da dove volevi ripartire c'era una domanda che avevi posto no no volevo semplicemente dire una cosa e cioè che mentre parliamo molto del cerchio magico di Putin e quindi del dibattito interno alla nomenclatura russa su chi è favorevole a continuare linea dura linea morbida trattativa non trattativa bisogna considerare che anche all'interno del cerchio magico di Zelensky ci sono delle differenze perché c'è chi dice dobbiamo far massacrare la gente e distruggere le città prima di andare a un accordo oppure no e da questo punto di vista secondo me questo è un altro aspetto da considerare e a proposito di Putin Alessio stanno arrivando diverse agenzie esatto vero genocidio avviene da otto anni in Donbass dice il presidente della federazione russa l'operazione militare è un successo si sta sviluppando strettamente secondo i piani le parole sono riportate dall'agenzia TASS ma sappiamo in che circostanza da dove sta parlando sono dichiarazioni che vengono riportate dall'agenzia di stampa nazionale TASS quindi insomma sul virgolettate sulla precisione diciamo che poco abbiamo da eccepire non aveva altra scelta la Russia per garantire la propria sicurezza che è quella di attuare l'operazione militare in Ucraina e le sanzioni stanno colpendo duramente l'economia mondiale non è ancora arrivato alla parte in cui addossa all'Occidente la responsabilità della crescita dei prezzi in alcuni settori per esempio il comparto alimentare di solito è un canovaccio che segue con sufficiente precisione operazione che procede con successo sempre operazione militare Greco? Ah non mi sembra proprio perché anzi gli ultimi giorni in particolare il weekend e questi ultimi due giorni hanno mostrato che l'avanzata è ancora più lenta l'abbiamo visto a Kiev hanno difficoltà i russi ad accerchiare Khorkiv hanno come vediamo anche a Nikolaev questa offensiva di terra che è la premessa per l'attacco eventuale ad Odessa non va molto avanti quindi e soprattutto l'obiettivo strategico che era quella di tagliare fuori l'esercito che sta l'esercito ucraino che sta verso sud est non fa non fa progressi quindi questo era poi l'obiettivo la parola successo non è quella che lei scegliera e naturalmente lui si aspettava tutt'altro come ben sappiamo c'è un'operazione molto più rapida adesso ha attuato un escalation che anche questa però non sta avendo grandi successi certo a sud con Mariupol che rischia di cadere c'è questa possibilità che poi si chiuda il corridoio adesso andiamo a guardare anche il quadro della giornata dove stanno avvenendo gli attacchi e qual è la situazione sul terreno nel dettaglio delle varie città ucraine intanto saluto e ringrazio Andrea Purgatori cosa vediamo stasera Andrea? stasera vediamo oltre all'attualità e collegamenti vari proprio la storia di come tutto è cominciato otto anni fa il Donbass la Crimea la neutralità e anche diciamo l'indifferenza o l'incapacità dell'Occidente di poter gestire questa crisi che poi è finita in una guerra saremo lì grazie Andrea per essere stato con noi Ettore Greco resta ancora qui in studio saluto e ringrazio per averci raggiunto l'onorevole Giorgio Moulet sottosegretario della difesa di Forza Italia ben trovato sottosegretario eccoci grazie buon pomeriggio a te agli ospiti e a tutti gli ascoltatori allora vedo già inquadrato Gianluca Gianluca Panella vedo anche Elena arrivo da voi però prima con Andrea Postiglione il quadro di tutto il paese e delle varie zone in cui il paese viene attaccato vediamo ancora una volta l'alba di Kiev è segnata dal rumore dell'esplosione dei missili russi il ventunesimo giorno di guerra si apre nella capitale con il bombardamento di un palazzo di 12 piani due persone sono rimaste ferite e 35 sono state sfollate secondo fonti ucraine 12 città intorno a Kiev sarebbero rimaste senza acqua e 6 sarebbero senza riscaldamento a 80 km di distanza Ivankiv è stata conquistata dai russi mentre sempre a nord di Kiev a Cernikiv le truppe di Mosca avrebbero ucciso 10 civili in fila per il pane nelle immagini che circolano sui social si vedono sfocati i corpi degli ucraini uccisi mentre i feriti vengono fatti salire su auto e ambulanze come la capitale anche Kharkiv si è svegliata ancora una volta sotto le bombe dall'inizio della guerra sono stati colpiti oltre 600 edifici in città i morti sarebbero almeno 500 inclusi due civili uccisi nei bombardamenti di questa notte ma i missili russi nelle ultime ore hanno colpito anche la stazione dei treni di Zaporizia e Odessa dove navi da guerra russi hanno sparato missili e artiglieria sulla costa vicino a Tuzla a sud del porto sul Mar Nero stesso destino di Mariupol dove ai raid aerei si sono ora giunti quelli delle navi da guerra mentre l'ospedale regionale della città per il secondo giorno consecutivo è occupato dai militari russi che costringerebbero i medici a curare i loro feriti usando i pazienti come scudi umani infine in mattinata arriva la notizia dell'ennesimo sequestro di politici ucraini da parte dei russi si tratterebbe del sindaco e del vice sindaco di Skadovsk piccolo centro sul Mar Nero i cittadini sono subito scesi in piazza per chiedere il loro rilascio alessio su quest'ultima notizia c'è un aggiornamento no? si 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 quella sul sindaco intendo che ha girato un video e ha raccontato di essere stato rilasciato si quindi un barlume di buona notizia almeno c'è si si ogni tanto diciamo anche qualcosa che ci fa respirare un po' Onorevole Mure non ci fa respirare cito un titolo a caso il titolo della prima pagina del giornale di stamattina l'Italia chiamò preparatevi a combattere circolare dell'esercito addestramenti bellici e limiti ai congedi cioè di che stiamo parlando? parliamo di una normalissima attività che si svolge in seno alle forze armate normalissima perché noi siamo impegnati faccio un esempio in 40 missioni in giro per il mondo ed è ovvio ed è normale mi lasci dire rutinario che ci siano circolari come quella che è finita oggi sui giornali in cui si dice ai reparti che eventualmente saranno chiamati a spostarsi nel cosiddetto teatro operativo di essere in prontezza cioè di essere pronti nel giro di 72 ore a raggiungere il luogo dove bisogna essere inviati e si dice ai comandanti di concentrarsi in tutte quelle attività propedeudiche all'invio di questi soldati in un teatro operativo che nel nostro caso non è l'Ucraina ma sono i confini della Nato dove normalmente già operiamo come se attualmente noi siamo sia in Romania che in Lettonia abbiamo degli assetti che in Lettonia siamo sia lì che là tant'è vero che lo abbiamo raccontato anche nelle settimane passate però ovviamente se io leggo quella circolare penso ci prepariamo a mandare più uomini per esempio? sì assolutamente sì ma non è una notizia nel senso che il Parlamento ha autorizzato fino a quasi 4.000 soldati che possono essere richiesti dalla Nato all'interno di una cornice di allianza che prevede da subito l'invio laddove richiesto di circa 500 militari delle forze speciali che vanno a far parte di una forza che si chiama Very High Readiness Joint Task Force sostanzialmente è una testa d'ariete della Nato formata da 5.000 soldati di cui 500 italiani questi 500 italiani sappiamo già quando partono sottosegretario tanto per capirci quando la Nato lo richiederà ma attualmente noi già abbiamo i 430 soldati no no quello lo so dico a parte quelli che sono già lì quelli che dovranno partire si ha un'idea di quando partono quando il comando della Nato li chiamerà loro sono pronti nel giro di 12 ore a partire allora torniamo a Chieva apritemi Gianluca Panella eccoci Gianluca torno da te buongiorno senti è vero che stamattina è stato colpito un altro palazzo lì a Chieva in notizie di questo queste sono queste sono le agenzie io non ho nessuna notizia al di fuori delle agenzie perché abbiamo parlato anche tra colleghi ma siamo chiusi qui dentro non riusciamo a verificare allora guarda ti faccio vedere le immagini perché sono arrivate delle immagini così magari ci aiuti a capire dove potrebbe essere se riconosci qualcosa fatemi vedere per favore le immagini che abbiamo dell'attacco a Chieva di questa mattina quelle che risultano essere le immagini dell'attacco vediamo non credo siano proprio queste sono queste chiedo anche a chi è in studio non sono queste appena ce le abbiamo le vediamo scusami Gianluca siccome tu sei all'aperto hai detto sei fuori dall'albergo sarai sul balcone dell'albergo immagino della tua stanza giusto? esatto terrazzino della stanza quello che vedi e quello che senti cos'è? fuori c'è fuori c'è silenzio gli unici a camminare qui davanti a me ci sono le immagini ci sono le immagini te le farei vedere prima che ce le perdiamo eccole fatemele vedere mandiamole in onda io non so se tu riesci a riconoscere qualcosa non credo sia facilissimo potrebbe essere per quanto mi riguarda un punto di Chieva Chieva è una città enorme io sono qua da due settimane mi sembra ancora una volta un quartiere residenziale non potrei certo risalire a dove si trovi ho saputo che comunque hanno bombardato a nord di Chieva hanno bombardato a nord ovest di questo panificio di cui si sta parlando io so ben poco ma dovrebbe essere nella parte ovest di Chieva anche se poi ho letto un'agenzia che parlava del panificio nella parte nord di Chieva quindi sai io quando di solito quando qui ci sono delle notizie importanti la prima cosa da fare è salire in auto e andare a verificare certo che al momento vi è impedito perché ricordiamolo 36 ore di coprifuoco dicevi Gianluca che tu dalla finestra senti il silenzio e vedi il deserto immagino silenzio deserto soltanto pochi soldati che camminano qui davanti alla piazza io non voglio farvi vedere il punto preciso perché abbiamo deciso così però sono di fronte a una parte della piazza Maidan quindi ne vedo una porzione e ogni tanto passa un'auto che ovviamente riporta le bande blu queste strisce blu che sono il nuovo segno di riconoscimento delle milizie cittadine della difesa civile della civilian defense fino a qualche giorno fa avevano delle strisce gialle sono cambiate con le strisce blu e questi sono gli unici veicoli che vedo passare da questa mattina grazie Gianluca grazie davvero e poi ovviamente ci ritiene Alina quando vuoi che succede Alessio nuove parole di Vladimir Putin l'atteggiamento dell'Occidente nei confronti dei russi è come i pogrom riferendosi alle persecuzioni contro le minoranze religiose nel corso della storia anche in Russia soprattutto contro quelle ebraiche ed è la seconda volta nel giro di pochissimi minuti che addossa responsabilità in questo caso di persecuzione nel caso precedente di aiuto militare verso l'Occidente guardavo l'espressione di Moulet arrivo da Moulet però prima volevo sapere dal dottor Greco a cosa serve il coprifuoco quelle 36 ore a cosa servono? il coprifuoco innanzitutto come sappiamo all'inizio è stato e poi perché c'è la questione Kiev che forse è di rimenti anche rispetto alla trattativa fondamentalmente serve per tenere sotto controllo nel modo più efficiente il territorio quindi evitare anche all'inizio abbiamo visto che ci potessero essere delle quinte colonne degli incursori russi sotto mentite spoglie eccetera il che questo problema rimane comunque in ogni caso per muoversi per attuare le varie azioni militari difensive è molto più facile farlo in questo contesto ovviamente per la popolazione però significa un sacrificio molto consistente perché non possono approvvigionarsi hanno difficoltà a raggiungere diciamo punti vitali per loro insomma quindi non è una cosa che si prende a cuore leggero però dal punto di vista dell'azione militare delle capacità difensive è una misura che facilita la difesa che è una sua utilità volevo dire una cosa a proposito di queste si vede chiaramente la capacità distruttiva dei russi il fatto che adesso stanno facendo sempre di più queste azioni indiscriminate però non bisogna distingue tra questa e poi la capacità effettiva di raggiungere gli obiettivi militari quindi di far andare avanti il fronte anzi in un certo senso il ricorso a queste azioni indiscriminate può essere un segno di debolezza ovviamente è nella seconda fase che si è ricorso a queste azioni proprio perché non si è riusciti e Mosca non è riuscito a far procedere come sperava come pensava le operazioni insomma e nel frattempo però ieri è successa anche un'altra cosa onorevole Moulet che sono arrivati a Kiev quindi restiamo ancora un attimo a Kiev i leader di Polonia Slovenia e Repubblica Ceca allora ci sono due tre cose che vorrei che mi aiutasse a diciamo a tradurre no intanto arrivano a Kiev e arrivano col treno quindi intanto possono arrivare col treno che significato ha la seconda ma hanno un messaggio certamente di solidarietà ma anche di sfida a Putin la terza forse mandano un messaggio pure a Bruxelles perché loro dicono di agire in nome del Consiglio europeo in realtà non avevano nessun tipo di mandato da questo punto di vista prego Moulet si tratta come dire di una visita che vuol dimostrare come l'Ucraina sia ancora saldamente uno stato sovrano che non si è né arreso né capitolato a Mosca e il fatto di arrivare in treno testimonia il fatto che di uno stato che è ancora integro e dal punto di vista militare come sa il dottor Brego le prime cose che di solito si interrompono dal punto di vista logistico sono gli aeroporti e poi le ferrovie il fatto che ci siano ferrovie integre e che quando sono state distrutte dagli ucraini per spezzare l'assedio della Russia dimostra il fatto che è una dimostrazione di potenza dal punto di vista politico è un messaggio all'Occidente della serie non abbiate paura a quella parte di Occidente riferito anche a noi perché dice non abbiate paura venite qua perché il vostro posto è qui e non è a Bruxelles o a Versailles o altrove e ovviamente è legato da rapporti culturali storici che affondano nel tempo e che hanno oggettivamente una loro legittimità come se domani ci fosse un'aggressione alla Francia e l'Italia andasse a Parigi proprio per alzare l'attenzione e dire agli altri di fare altrettanto e di fare tutto quello che loro possono in grado di fare ma in qualche modo però chiedo Greco Putin era permesso di arrivare non si è permesso di attaccarli quanto vedo guardi che i treni da Kiev per Kiev hanno continuato ad operare durante tutto questo periodo quindi diciamo è una situazione nella quale ancora queste città non sono circondate e i canali di comunicazione rimangono tant'è vero che infatti continuano ad arrivare sia l'assistenza umanitaria sia le armi quindi non è una situazione in cui diciamo Mosca ha il controllo del territorio e tali tempi certamente sono operazioni rischiose per questo qualcuno ha alzato la sopracciglia a Bruxelles perché temeva che si potesse rinnescare delle dinamiche pericolose o ad essere presa come un atto di provocazione tant'è vero che un gruppo di parlamentari italiani che vorrebbe andare a Leopoli per facilitare i corridoi umanitari Di Maio aveva consigliato non andare e sembra che andranno lo stesso Mule lei di che avviso è? Sarebbe meglio stare in casa? Sarebbe meglio andare? Che non bisogna andare perché in questo momento come negli atti di eroismo di generosità non sono quelli che servono servono come dire atti di coesione politica che trasmettono una posizione unitaria tutti stiamo facendo l'impossibile per aiutare anche in maniera umanitaria il popolo ucraino esporsi come un bersaglio un target privilegiato essendo un parlamentare della Repubblica non va nella direzione come dire di aiutare in questo momento quello che va fatto no anche perché insomma abbiamo visto Kiev e lì c'è il coprifuoco ma nel racconto che ci faceva Andrea Postiglione abbiamo visto che ci sono vari attacchi in varie parti dell'Ucraina adesso andrei verso sud perché per esempio la zona vicina a Dodessa si è svegliata tra i bombardamenti apritemi Alfredo Bosco Alfredo torno da te eccoci qua so che tu sei stato in quei villaggi costieri vicino a Dodessa che sono stati bombardati e ci hai mandato anche delle immagini è corretto? sì ho mandato delle immagini nel poco tempo disponibile che avevo quando ci sei stato esattamente? siamo stato praticamente tre ore fa avevamo raggiunto Tuzli e poi anche Mirne mezz'ora dopo però ci sono stati una serie di problemi perché il maggior pericolo che ora si sente in quel lato di Odessa ad Ovest è quello degli informatori quindi qualsiasi persona che faceva delle riprese veniva fermata in maniera anche piuttosto aggressiva da parte dell'autorità perché giustamente sono in un momento di stato di guerra dove poi gli attacchi che ci sono stati cioè hanno paura che voi giornalisti siate delle spie? assolutamente nonostante le evidenze press sia sulla macchina sia su di noi sia persone che sono della polizia sia effettivamente quelli della difesa territoriale ci hanno fermato ci hanno fermato e ci hanno anche trattenuto ma questo lecito perché hanno una paura enorme per quanto riguarda gli informatori che possono essere sia cittadini ucraini però pro-russi oppure proprio russi che sono lì sul territorio vediamo le immagini intanto Alfredo così capiamo di cosa stiamo parlando vediamo le immagini che ci ha mandato Alfredo Bosco siamo appena arrivati al villaggio di Mirne a ovest di Odessa nella regione ci sono stati dei bombardamenti il vicino villaggio di Tisla si parla di Grad mentre qui è caduto proprio un missile le persone sono spaventate ci hanno consigliato vivamente di non avvicinarsi comunque nel luogo questi sono detriti degli ordini esplosi questa notte nel villaggio di Mirne questo è un cratere provocato da un missile che è arrivato vicino al villaggio di Mirne per fortuna non ci sono state vittime ma è chiaramente un luogo non strategico ma la pericolosità è anche questo che anche aree che non sono coinvolte con le linee del fronte con delle linee strategiche militari possono essere colpite anche erroneamente e senti Alfredo torno da te perché tu ci hai fatto vedere le immagini i bombardamenti i missili però sono giorni che sentiamo parlare dello sbarco lo sbarco arrivano dal mare che idea hanno gli ucraini perché in realtà poi lo sbarco non c'è verso Odessa intendo su quelle spiagge su quella costa allora ci sono varie cose da valutare sicuramente uno sbarco è sempre molto complesso militarmente sia per il numero di uomini sia per il fatto che bisogna sicuramente poi affrontare il fuoco da terra che potrebbe causare tantissimi morti la cosa è che però intanto ai villaggi possono questi ordigni e queste esplosioni questi attacchi missilistici potrebbero anche essere stati effettuati intanto per allontanare la popolazione e quindi un avvertimento effettivamente di uno sbarco ma non ci sono ancora certezze se non l'avvistamento di alcune navi russe ma le fonti sono solamente quelle ucraine quindi preferisco non confermare una notizia del genere Alfredo se non hai altre cose da aggiungere per il momento ti libero e poi ci chiedi la linea quando lo ritieni anche perché nel frattempo Putin che ha sì no è possibile prego chiedo scusa no perché poi ora tra questo collegamento e quello di prima ci sono anche notizie che sono ci sono stati altri ordigni nel villaggio di Zatoca e di Belenchi che sono più vicini a Odessa stiamo parlando di 90 km quindi c'è un progressivo avvicinamento ad Odessa questa è la sensazione Greco sì però io non assolutamente non mi aspetterei uno sbarco fino a quando non c'è un'avanzata del fronte di terra cioè più si avvicinano ad un certo punto quando saranno davvero vicini è possibile perché soltanto con lo sbarco poi naturalmente ci sono anche e questo fa paura tutte le forze navali che possono sparare ovviamente i missili e poi lo sbarco delle truppe anfibie ma ci vuole anche un sostegno da retroterra e se sono a 100 km non va bene ovviamente l'attacco a Odessa segnerebbe una vera escalation ulteriore con rischi enormi data l'importanza strategica economica di Odessa simbolica simbolica ma economicamente importantissima e poi siamo a ridosso naturalmente della Trasnistria della Moldavia dove peraltro sappiamo che ci sono soldati russi quindi anche da lì potrebbe arrivare posso pensare che non si può escludere che intervengano anche dalla Trasnistria però insomma lì è veramente un punto molto molto delicato e quindi si sperava o si spera che si possa evitare quindi i negoziati dovrebbero servire per esempio a questo ecco cercare ad evitare la presa di Odessa però Putin guardi non mi sembra che sia proprio di questo avviso Alessio no sempre la linea dei due binari di comunicazione però l'operazione speciale in Ucraina sarà completata lo ha detto Putin citato dall'Ariano Vosni e poco prima aveva paragonato gli ucraini ai nazisti sul periodo finale del terzo Reich tutto apposto ucraini i nazisti e l'operazione speciale sarà completata onorevole Murey mettiamo che conquistino Odessa le chiedo alla fine quello indebolisce sul tavolo negoziale indebolisce Zelensky indebolisce Putin perché pure quello non si capisce bene poi ti presenti al tavolo o come? Esatto mentre voi leggevate questi schiaffi alla storia e al presente di Putin c'era in contemporanea delle dichiarazioni del ministro degli esseri Lavrov che sono quelle a cui io guardo di più che lì c'è la propaganda c'è appunto c'è la roba scelerata il quale dice si può organizzare anche domani l'incontro Putin-Zalesky ma deve essere un momento di incontro in cui abbiamo già definito quello che stiamo facendo a livello di delegazioni che vuol dire che in questo momento dopo il primo tavolo che è servito per annusarsi il secondo tavolo che è stato quello da Lavrov è il ministro degli esseri ucraino stiamo per arrivare si spera alla definizione di un contratto di pace lasciami il termine che alla fine dovrebbe vedere Putin e Zalesky il fatto che Lavrov ancora una volta continui Lavrov non parla senza avere la benedizione ovviamente del capo e prospetti la definizione di un tavolo con un accordo negoziato significa che al di là di Odessa che è fondamentale rispetto alla geopolitica militare o non Odessa c'è la possibilità concreta che si possa arrivare o con una neutralità in forma svedese austriaca o con la cessione di alcuni territori o con una formula politica a un accordo che possa far sedere Zalesky e Putin è quello su cui tutti dobbiamo puntare e a quello a cui tutti dobbiamo lavorare fammi soltanto ma è un'ipotesi che Muleve è lontana più o meno vicina non può essere lontana perché l'escalation di questa guerra e la capacità degli ucraini di resistere ha totalmente rivoluzionato i piani di occupazione russa e li costringe ad accelerare un processo negoziale che viceversa pensavano di poter portare molto più in là nel tempo concludo soltanto davvero levandomi il cappello davanti all'accuratezza il coraggio la passione dei vostri inviati ma di tutti gli altri inviati che davvero occupano ogni caso come un fortino con le loro telecamere ogni finestra come un'operitoria apro un'altra finestra con uno straordinario inviato che è Andrea Nicastro oggi abbiamo letto tutti il suo pezzo sul Corriere io di sicuro come ogni volta ben trovato Andrea sei ancora a Zaporizia? sì sì sono ancora lì sono ancora lì perché questa notte sono arrivate 3.000 auto da Mariupol tantissime persone ovviamente tantissime storie disperate da quella città che è diventata come dire il modo in cui Putin vorrebbe insegnare agli ucraini l'obbedienza dimostrando la ferocia su quella città vuole dare l'esempio a tutte le altre perché non non si oppongano senti Andrea per quei pochi che non avessero letto il tuo pezzo l'attacco del tuo pezzo di stamattina sul Corriere questa immagine di quest'automobile dalla quale scendono uno per volta n persone 14 se non ricordo male e dovevano essere 13 a un certo punto si aggiunge un bambino il quale bambino viaggia senza genitori ma dove ci vanno 13 persone ce ne vanno anche 14 e quindi si portano anche questo bimbo mi è sembrato una sorta di moderno Mosè salvato dalle acque cioè l'hanno affidato a questa navicella automobilistica per proprio portarlo fuori dal naufragio di quella città dove tutti possono morire da un momento all'altro i genitori immagino lo strazio nel darlo a persone che mi hanno detto neanche si conoscevano cioè si erano visti nel rifugio ma non erano amici di famiglia non erano davvero conoscenti no però quello è l'unica possibilità che hai di pensarlo in salvo e quindi lo affidi a quelli che passano no? non solo a quelli che passano ma le stesse persone che l'hanno preso cioè l'hanno preso sapendo che sarebbe stato un viaggio sicuramente più complicato avrebbero rischiato magari di rompere l'automobile cioè erano già disperati loro però l'hanno preso e devo dire che storie come queste naturalmente senza soldi cioè parliamoci chiaro storie come queste io ne ho scontrate tante tante in questi giorni di guerra gente che ha aiutato per umanità cioè per la semplice necessità di condividere la sfortuna di cercare di alleviarla nel momento in cui la si pativa tutti assieme mi sembrano i racconti dei nostri nonni durante la guerra mondiale come no? il racconto di una Mariupol che è stremata è il racconto quindi dei luoghi in cui come tu dicevi Putin vuole insegnare agli Ucraini l'obbedienza ma è anche il racconto di un viaggio terribile perché lungo la strada queste persone che scappano da Mariupol e arrivano a Zaporizia dove tu poi ne hai incontrate alcune vedono cose che probabilmente vorranno dimenticare per il resto della loro vita no? è lo stesso viaggio che ho fatto io il secondo giorno di assedio perché io sono uscito con un convoglio organizzato dal ambasciatore greco per la comunità greca e anche in quel caso mi hanno preso a bordo per per bontà d'animo in qualche modo e questo è quello che descrivevo era il secondo convoglio che usciva però dopo non dopo un giorno e mezzo due giorni come il mio ma dopo dodici giorni in cui l'acqua era finita in cui il freddo era entrato nelle ossa senza riscaldamento in cui il cibo era finito tu scrivi il freddo per dieci giorni sotto zero cambia il colore dei vestiti anche delle facce e delle mani non hanno potuto lavarsi non hanno potuto lavarsi perché proprio perché l'acqua era troppo preziosa senti Andrea vabbè io praticamente citerei passo passo il tuo pezzo quindi mi fermo perché se no diventa imbarazzante ma ti chiedo a Zaporizia hanno bombardato la stazione ferroviaria tu me lo confermi e che notizie puoi darvi sì è il secondo scalo pare sia stato un missile che è caduto appunto questo secondo scalo ferroviario senza creare però feriti e un altro missile è caduto sul giardino botanico anche lì un obiettivo un po' un po' bizzarro per una avanzata militare però è chiaro che i russi hanno intenzione di rovinare interrompere danneggiare le linee di rifornimento alle truppe al fronte e quindi anche i bombardamenti delle città occidentali anche il bombardamenti del è il secondo bombardamento del sistema ferroviario un altro era avvenuto nella regione di Doniesc qualche giorno fa in cui il macchinista era stato ucciso da una scheggia e considera che i treni sono in gran parte l'unica come dire arteria vitale di comunicazione che ancora tiene insieme il paese perché avere benzina qui è difficile infatti tantissime persone che vorrebbero scappare da Mariupol che hanno anche l'automobile non riescono a uscire perché c'è stato lo sciacallaggio dei serbatoi la gente di notte sotto i bombardamenti è andata a succhiare la benzina dei serbatoi delle altre automobili pur di poterla avere per sé il tuo racconto è di quelli che da Mariupol sono scappati sono arrivati a Zaporigia a Zaporigia bombardano e bombardano anche la stazione da Zaporigia è scappata sono scappati in tanti ma è scappata anche una donna che Elena ha incontrato dove? a Leopoli perché poi questa è la guerra degli spostamenti via via vai a cercare salvezza da un'altra parte è arrivata a Leopoli Elena l'ha incontrata ha raccolto la sua testimonianza mi fa piacere se la ascolti anche tu con noi Andrea sentiamola ci sono le mine vicino alle case la gente non può partire per mettersi al sicuro i miei genitori sono vicini a Zaporigia le mine sono ovunque i soldati russi sono ovunque per avvertirmi mi ha chiamato mia nipote io li stavo convincendo a partire adesso però sono rimasti in una trappola nel mio villaggio una ragazzina di 17 anni stava portando la pensione hanno fatto esplodere l'auto ed è morta ci sono i villaggi in Ardonar dove non riescono neanche per arrivare agli uti umanitari neanche a Olepole e si stanno difendendo dal 5 marzo contro i russi o anche due sorelle di cui non so più niente vivono vicino a Mariupol dal 1 marzo non le sento più non c'è più nessuna connessione con loro immagino che Andrea Nicastolo di storie così ne abbia sentite tante ahimè allora io quello che ti posso dire è che questo è un dramma umano terrificante ma la signora non è soltanto una persona che soffre collegata a una famiglia che viene distrutta dalla guerra ma è anche lei stessa un'arma perché questo bombardamento il bombardamento sulle città l'accerchiamento la disperazione sono un'arma che Putin sta usando per spostare masse di persone verso l'interno del paese per mettere il paese economicamente logisticamente in ginocchio cioè non si bombardano a caso i civili c'è un disegno come dire strategico militare no no su questo voglio sentire anche il sottosegretario Mulee perché certamente c'è la questione di mettere in ginocchio il paese e certamente c'è anche l'altra questione di esercitare una pressione sull'Europa perché poi ci siamo noi queste persone arriveranno da noi anche quella è un'arma no? prego sottosegretario perché adesso siamo tutti buoni adesso siamo tutti solidali eccetera io voglio vedere fra due mesi quale sarà la situazione prego onorevole Mulee diciamo l'enormità e la tragicità di questa guerra in questo momento diceva bene siamo tutti buoni ci misureremo quando arriverà il caldo e poi quando arriverà l'autunno se questa è una solidarietà legata a quello che ci mostrate ogni giorno oppure una solidarietà legata all'aver capito il momento enorme che stiamo vivendo in questo momento nessuno si è voltato dall'altra parte e per quanto mi riguarda è già un eccellente segnale in un'Europa che invece aveva conosciuto paesi che pensavano che il problema non fosse loro certamente i meccanismi di protezione umanitaria e quello che l'Europa sta facendo presuppongono l'istituzione di un fondo non di uno di due ma di svariate decine di miliardi che vanno indirizzati a che queste persone possono inserirsi nelle comunità dove speriamo stiano poco tempo ma che in realtà rischia di essere per mesi o addirittura per qualche anno e quindi significa mediatori culturali scuole capacità di non sdradicarli da quello che è la loro vita ma fare in modo di accompagnarli il più possibile in un tragitto che poi deve prevedere non può essere solo l'accoglienza deve essere anche l'integrazione inevitabilmente deve essere la gestione e l'integrazione chiaro dopodiché c'è la questione del profugo utilizzato come arma e mi piace salutare Andrea ti assicuro che tengo presente diciamo l'oggetto del tuo ragionamento e dopo lo continuo a dibattere con i miei ospiti grazie davvero Andrea per essere stato con noi io mi sposto alle opere Elena Testi Elena torno a Leopoli intanto dimmi esattamente dove sei e poi voglio far vedere subito il servizio che hai girato perché insomma lo voglio vedere non lo voglio perdere dimmi allora dirti esattamente dove sono non si può non posso perché come tu pensai ci sono non esattamente quindi proprio esattamente no sono comunque a Leopoli vicino al centro della città e ti dico a proposito del servizio che vedremo mi ha molto colpito perché prima stavo parlando con uno dei parroci che dopo vi presenterò e parlavamo dei soldati che stanno morendo al fronte mi diceva sai c'era qui un sacerdote con me ha celebrato il funerale di il secondo fratello il primo era già purtroppo caduto al fronte la mamma si è presentata a distanza di tre giorni per il funerale del secondo figlio e queste sono le storie e il dolore anche di famiglie che mandano i propri figli che non sono tutti preparati Tiziana e noi l'abbiamo raccontato chiaramente imbracciano le armi dopo un brevissimo addestramento il tuo pezzo è un pezzo hai assistito ai funerali di alcuni soldati ucraini vediamo io l'abbiamo io l'abbiamo che per la guerra per la guerra e Rosita come i molti altri quando si le le e tutti i diversi miemborandumi di provvedere la guerra. Ora hanno perlato tutti i possibili 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 i possibili. E mi sento che ho bisogno di fare qualcosa per finire, ma in questa situazione mi sento che abbiamo bisogno di supportare. Perché non so, ma credo che tutti i nostri dovrebbero venire e supportare le famiglie, le persone che hanno questo posto. Non so, ma credo che i possibili i possibili i possibili i possibili i possibili i possibili. I possibili i possibili i possibili i poteri. Eriò prove. Ettore Greco, quanto sappiamo delle perdite sia di una parte che dell'altra? Per quanto riguarda i russi ci sono delle stime occidentali, si tratta di migliaia di soldati, quanti ci sono stime sicure, si parla di 2.000, 4.000, 5.000, vanno crescendo ovviamente col tempo, si tratta secondo me di cifre molto significative e che naturalmente cresceranno col tempo, quindi io penso che potrebbero avere un impatto, perché in realtà il fattore principale potrebbe far cambiare in Russia sul fronte interno e quando comincia a tornare le salme dei soldati e le bare lì diventa una cosa che non si può nascondere, si può nascondere tutto meno che questo, oltre al fatto naturalmente che comunque con tutte le difficoltà ci sono le comunicazioni con le famiglie, Questo è in realtà il vero punto, diciamo, debole, che se continua questa offensiva e il numero di caduti cresce fra i russi, una qualche ripercussione si può aspettare che si abbia anche in Russia, tanto più se poi non si raggiungono gli obiettivi che Putin si è proposto. Vi faccio vedere questa notizia, sperando che poi sia foriera di altre notizie positive, il Financial Times ha riportato un ipotetico pieno di pace in 15 punti che includerebbe il cessato del fuoco e il ritiro delle truppe russe se l'Ucraina dichiarasse la neutralità e accettasse i limiti alle forze armate, è il contenuto di una bozza accordo sulla quale i negoziatori russi e i negoziatori ucraini stanno discutendo. Ci deve dire qualcosa, sottosegretario? No, 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 è che non vorrei fare, come dire, Sibilla, ma insomma è quello che pensavo e che abbiamo detto prima, cioè costruire quell'accordo che si basi, ad esempio, su una forma di neutralità prevedendo, però... No, no, però io dicevo che ho visto il sorriso e lei ha capito troppo bene che io mi riferivo al fatto che forse, insomma, aveva qualche notizia in più. Ci può confermare che... No, 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 no... No, 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 per carità. No, no, lasciamo fare il lavoro a... Ha ragione, siamo qua e raccontiamo solo quello che sappiamo. A proposi di quello che sappiamo, diciamo, forti del fatto che le buone notizie ci piace darle e vogliamo crederci, nel frattempo a Leopoli si preparano per il peggio Elena mi ha mandato una foto Elena in velocità mi spieghi che foto mi hai mandato Noi siamo stati molto colpiti questa mattina perché chiaramente andiamo nella città, nel centro di città per guardarci anche intorno quello che ci siamo resi conto stanno, quella è solo una foto stanno proteggendo l'estate già era stato fatto nei giorni precedenti ma c'è un'ulteriore protezione ricordo che Leopoli è patrimonio mondiale dell'UNESCO è uno dei centri storici più importanti al mondo inoltre stanno proteggendo le chiese perché stanno mettendo delle coperture alle chiese e ci siamo resi conto che alcune vetrine dei negozi venivano coperte poi purtroppo come ben sappiamo in alcuni luoghi non si possono fare le foto però questa almeno ce l'hanno fatta testimoniare seppur da lontano però questo è un simbolo perché effettivamente significa che in questa zona si sta avendo sempre più paura è certo che cresce la preoccupazione Elena, ti devo fermare che sono già veramente tanto in ritardo poi tanto torno da te prima di salutare l'onorevole Moulet le devo chiedere di una iniziativa dell'Aeronautica Militare che da oggi si è attivata per recuperare 45 profughi ucraini la maggior parte sono donne e bambini con un volo da Bucharest mi fate vedere le immagini perché abbiamo delle immagini e il parlamentare Ugo Cappellacci di Forza Italia è andato a prenderli personalmente chi sono e qual è il tipo di iniziativa Moulet mi aiuta? è il Ministero della Difesa che ha aderito a una richiesta che arriva dall'Unione Interparlamentare Italia-Ucraina che è preceduta dall'onorevole Cappellacci abbiamo dato l'assistenza come la continueremo a dare per trasportare oggi 45 profughi da cui moltissimi bambini che sono atterrati a Elmas alle 14.37 segue devo dire un'altra iniziativa straordinaria fatta via terra questa volta sempre dall'Unione Interparlamentare dell'onorevole Cappellacci che ha portato più di 60 orfani ucraini qui in Italia ed è il modo concreto per dare una speranza o comunque un'accoglienza soprattutto ai più deboli in questo caso bambini molte volte orfani che altrimenti veramente non saprebbero dove andare grazie onorevole Moulet grazie a voi per essere stato con noi grazie a Ettore Greco adesso vado in pubblicità ci ritroviamo tra pochissimo eccoci qua di nuovi studio allora intanto vi voglio dire che sembra quella di oggi una giornata importante perché arrivano notizie che ci sembrano davvero di segno positivo rimettiamole in file Financial Times Alessio ripartiamo da lì una bozza di piano di pace includerebbe la rinuncia da parte dell'Ucraina alla Nato la promessa di non ospitare basi militari straniere o armi in cambio di protezione dalleati quali Stati Uniti Gran Bretagna e Turchia garanzie occidentali per la sicurezza ucraina potrebbero rivelarsi un grande ostacolo a ogni accordo così come i territori conquistati dalla Russia nel 2014 mette in evidenzia il Financial Times poi accanto vedete però ci sarebbe una bozza del piano di pace diciamo la buona notizia è che evidentemente si comincia a vedere qualcosa media stranieri Financial Times poi altre due notizie la prima Casa Bianca primo contatto ad alto livello con Mosca cerchiamo di capire in che cosa si è sostanziato questo contatto chi è stato l'interlocutore rispetto all'altro un altro contatto di alto livello abbiamo i protagonisti nomi e cognomi il patriarca di tutte le russie Kirill ha parlato al telefono del conflitto con Papa Francesco in questo caso la fonte è la chiesa di Mosca allora io vado a salutare Alessandra Ghisleri direttrice Euromedia Research ben trovata Alessandra perdonami arrivo subito da te ma prima apro il collegamento con Andrea Carruba che mi ha chiesto la linea Andrea dovrebbe essere a Kharkiv giusto Andrea? Ciao ben trovata intanto che succede? Sì sì sono ancora qua a Kharkiv ma sono successe un sacco di cose diciamo questa notte hanno bombardato un colpo è anche caduto a meno di un chilometro dal mio alloggio quindi è stata una forte botta intorno alle due del mattino e dopo tu sei stato svegliato da questa cosa era un missile? a dormire stavo per andare a dormire non ti so dire un colpo di artiglieria pesante che ha centrato un obiettivo un obiettivo sensibile a meno di un chilometro dal mio alloggio e poi ha continuato così tutto il giorno io stavo seguendo un altro lavoro ero in un quartiere che si chiama Alexia Andrivka e praticamente stavo facendo un lavoro di approfondimento quando mi è arrivata questa informazione che c'era stato questo attacco al mercato di un altro quartiere ancora che poi è il solito quartiere è Saltovka il quartiere più colpito quello vicino alle postazioni quale continuano a colpire continuano ad arrivare i colpi russi sì continuano ad arrivare i colpi russi che c'entrano quasi sempre obiettivi non militari quindi abitazioni scuole edifici residenziali Andrea tu mi hai mandato delle immagini non so esattamente se sono quelle di questa notte di questa mattina no di questa mattina è l'incendio che è divampato dopo che il mercato edile di Saltovka quindi di Kharkiv in questo quartiere a Saltovka è stato raggiunto da prima hanno detto quattro colpi di mortaio un mortaio da 120 quindi un mortaio da sono armi pesanti sono armi con una gittata molto lunga e che fanno danni incredibili poi invece delle fonti militari hanno detto che pare siano addirittura sei colpi di cui cinque esplosi e uno conficcatosi senza esplodere aspetta che intanto vediamo le immagini così capiamo anche visivamente di cosa stai parlando vediamo è stato appena colpito un mercato mercato nel cuore di Saltovka i visi del fuoco sono già all'opera i visi del fuoco stanno contenendo l'incendio per quanto possibile purtroppo è andato a fuoco quasi tutto il mercato il mercato coperto di Saltovka la gente fruga tra le maciere di questo negozio di scarpe che è stato colpito questa mattina alla ricerca di qualcosa da poter portare a casa e allora intanto Andrea grazie per averci testimoniato ancora e di nuovo quello che sta accadendo non so se volevi aggiungere qualcosa nel frattempo vedo che ci ha raggiunto Vladislav Maestruk che io chiamerò solo Vlad come lui mi ha consigliato ben trovato Vlad eccoci salve salve chiedo a te guardi quelle immagini è difficile esprimersi senza usare idiomi proibiti in una televisione perché queste cose quando le vedi capisci che si tratta anche non soltanto di case distrutte ma in molti casi anche di futuri distrutte è certo di vite di sogni di desideri di vite distrutte di sì soprattutto certo che facevano ancora più male le immagini da Mariupol a sapere che quella ragazza che era stata portata in salvo sulla barella quella fotografia che quella ragazza non ce l'ha fatta morta e il suo bambino non è nato è così queste cose sono difficili da capire poi soprattutto inizia ad imbestialirti quando inizia a leggere per esempio come viene riportato tutto ciò che accade qui in Russia per esempio Putin che dice tutto va secondo i piani secondo quali ha anche detto che terminerà l'operazione porterà a termine l'operazione però nel frattempo si intravede uno spiraglio nei negoziati aspetta Vlad che abbiamo tutto il tempo di parlarne però prima intanto voglio liberare Andrea Carruba anche perché lì c'è questione di coprifuoco sempre per cui lui deve tornare in sicurezza immagino nel luogo in cui alloggia Andrea grazie davvero grazie a voi tutti è sempre un piacere poter raccontare quello che succede in questa terra così bella e purtroppo continuamente martoriata da questi attacchi continui grazie ancora Andrea e mi raccomando prudenza Alessandra Ghisleri abbiamo visto immagini di distruzione stiamo raccontando storie di persone che scappano e peraltro stiamo raccontando una guerra nella quale via via il messaggio che passa è che non c'è posto sicuro per cui all'inizio tu li vedevi scappare solo da Mariupol poi da Mariupol andavano a Zaporigio poi da Zaporigio vanno a Leopoli adesso da Leopoli scappano per venire in Europa per trovare una via di salvezza dopodichè arrivano in Italia ho visto che per la stampa arriveranno anche in Italia tu hai fatto un sondaggio per capire quanto sono disponibili gli italiani nei confronti di chi arriva da quella guerra la risposta è è positiva perché ovviamente di fronte a quello che vediamo è impossibile non sentirsi parte di questo dolore se non altro almeno quel sentimento e il 60% degli italiani è di fatto favorevole ad accogliere queste persone ad inserirle nella nostra società a aiutarle si è frantumato quello che erano i sentimenti che noi ci possiamo ricordare alla soglia del 2019 e del 2020 è cambiato un mondo perché quelle tendenze non ci sono più le persone vedono queste immagini si sentono partecipi se non altro con il sentimento di un dolore incredibile perché quello che voi raccontate tutti i giorni e quello che viene raccontato è proprio il frantumarsi di vite di sogni di speranze e quindi le narrazioni non servono perché queste immagini raccontano tutto perché era un popolo come noi sono 44 milioni di abitanti che vivono una vita normale che fino a 15 18 giorni fa nel quale peraltro è facilissimo specchiarsi e quindi forse senti più forte quel dolore ti arriva di più rispetto ad altre guerre che pure abbiamo raccontato e ignorato poi dipende allora guarda Alessandra torno anche da te torno da Vlad vedo Elena con un ospite però ho un tassativo qualche minuto di pazienza per tutti andiamo in pubblicità e ritorniamo tra l'altro poi c'è Di Maio vedo Luca Sappino pronto perché il ministro degli esteri dovrebbe parlare alla camera è un'informativa insomma arriviamo arriviamo a coprire tutto quello che sta accadendo dopo la pubblicità Bentornati a Tagadà dunque siamo in compagnia di Alessandra Ghisleri direttrice Euromedia Research che ringrazio per essere rimasta con noi e torno da Alessandra chiedo pazienza a tutti gli ospiti sono giornate un po' complicate e viene sempre prima quello che succede sul terreno in Ucraina saluto nuovamente a Kiev Vadislav Maestruk che appunto è collegato con noi da Kiev e poi vado da Elena Testi fatemi vedere è già arrivato Marco Revelli professor Revelli è arrivato sociologo politologo professore all'università del Piemonte Orientale ben trovato ben trovato grazie per essere con noi allora Elena Testi Leopoli intanto aspettiamo che cominci a parlare Di Maio alla camera informativa sulla guerra appena è buono mi aprite il segnale Alessio abbiamo un po' di notizie dal punto di vista diplomatico vi abbiamo dato conto dell'interlocuzione che c'è stata tra il consigliere per la sicurezza Sullivan e il suo omologo russo Pat Rushev non un colloquio molto sottile anzi diciamo che non sono risparmiate posizioni aspera reciprocamente e poi l'altro il colloquio che c'è stato tra il patriarca di tutte le russie Kirill e Papa Francesco le parti hanno sottolineato l'eccezionale importanza del processo negoziale in corso esprimendo la loro speranza per il raggiungimento al più presto di una pace giusta e la nota è il patriarcato di Mosca la pace giusta che tutti noi ci auguriamo e che credo si augurino anche a Leopoli Elena tu e il tuo ospite immagino si qui sono in compagnia di padre Andrea ausiliare del parroco di una chiesa che non diciamo per motivi di sicurezza oltretutto io lo devo ringraziare perché a Leopoli insomma come tu ben sai Tiziana le sirene suonano il pomeriggio la sera la mattina ieri pomeriggio ci siamo trovati in un parcheggio e ci ha gentilmente dato rifugio perché in questa chiesa diciamo non tutti gli edifici hanno i sotterranei dove poter andare e quindi ci si aiuta così mettendo a disposizione garage luoghi dove le persone possono sentirsi al sicuro non fanno solo questo io le faccio come prima domanda padre in che modo state aiutando i rifugiati in questo momento le persone che arrivano dalle zone più colpite Elena ti devo chiedere scusa perdonami sia tu che padre Andrea davvero mi scuso moltissimo ma nel frattempo parla di Maio apriamo un attimo il segnale sentiamo le prime parole del ministro degli esteri Di Maio che riferisce sulla guerra le Nazioni Unite confermano che quasi 700 ucraini inermi di qualunque età persino alcuni neonati hanno perso la vita per lo più in vigliacchi e insensate attacchi missilistici aerei e di artiglieria che hanno preso di mira i principali centri urbani dell'Ucraina in alcuni casi addirittura mentre la popolazione fuggiva convinta di poter contare su una finestra di tregua umanitaria per evacuare è verosimile che i numeri effettivi siano molto più elevati immagini sconvolgenti continuano ad arrivare da città come Erpin e Mariupol genitori disperati che portano in braccio i propri figli colpiti dagli attacchi verso ospedali ormai fuori servizio senza luce né acqua e che noi stessi vi raccontiamo tutti i giorni con l'aiuto degli inviati che sono lì sul terreno allora tornerei da Elena chiedo a Luca Sappino il favore di seguire per noi le parole di Di Maio e poi ci aiuterà a raccontarvi anche tu Alessio se arrivano agenzie via via magari segnaliamo e poi proviamo a riaprirlo Di Maio però siccome so che padre Andrea deve andare via Elena torno da te no appunto anche ricollegandoci ai numeri che stava dando il ministro Di Maio tantissime le persone che vanno ma tantissime le persone che arrivano anche qui a Leopoli le volevo chiedere come li state aiutando e soprattutto se lei ha perso dei fedeli perché questa è una delle chiese più frequentate della città purtroppo sì siamo qui vedendo che tanti rifugiati vengono qui a Ovest per o rimanere qua per aspettare che finisca tutto e poi tornare e ricominciare da capo oppure vanno poi oltre ringraziando i nostri vicini paesi europei che gli danno anche rifugio oltre noi siamo come tutto il popolo ucraino come tutti voi che siete persone per bene aiutando con i tutti i mezzi possibili prima di tutto si fa un registro chi sono che serve se serve sia alloggio sia qualche cosa per i malati per i bambini diamo le medicine diamo tante le cose ma qui collaboriamo con alcuni centri insieme perché qui è un quartiere molto popolato vive vivace e stiamo aiutando diciamo in tutto campo purtroppo abbiamo perso le persone che torneranno sicuramente ma non li abbiamo perso perché sono le madri mamme con piccoli bambini che non vogliono che la guerra tocca questi piccoli figli vanno oltre per stare un po' senza sirene senza stress purtroppo in Russia le madri mandano qui i figli che già dicono più di 13.000 sono morti qua per combattere per niente e questa è una tragedia questo si deve parlare perché i madri da qua con figli vanno all'Europa per nascondere per proteggere i loro figli e nel frattempo c'è il sacrificio di altre mamme e di altri figli e di là però alcuni se voi sentite alcune chiamate telefoniche tra i militari russi che i servizi segreti hanno hanno ricevuto di queste di queste chiamate alcune mamme dicono ma no ma giustamente devi farlo alcune dicono di no per cui purtroppo la propaganda le notizie false le bugie questo è un demonio bugiardo per cui se noi adesso non capiamo dov'è la verità anche in Italia tanti non parlano la verità quella che sia ma vi ringrazio come Tagadà come amici qua che siete veramente qui senza aver paura perché è pericoloso le sirene che hanno suonato anche di domenica di domenica dovevano nascondersi perché non sapevamo qui purtroppo siamo coperti ma non siamo se una volta sarà bombardato o non sarà bombardato dobbiamo essere per tutto e noi siamo fino alla fine che il nostro popolo con i nostri fedeli stiamo confessando gli diamo gli sacramenti un paio di cose ancora però a proposito della paura delle madri che hanno paura di quelle che scappano e portano in salvo i figli di quelle che invece vedono partire i propri figli dalla Russia e molte possiamo immaginare tante avranno paura per i loro figli e allora ti chiedo Alessandra le mamme italiane quanta paura hanno di questa guerra che si allarghi quel conflitto perché so che diciamo tu che tasti il polso del paese questa domanda te la sarai fatta hanno più paura di quello hanno più paura delle sanzioni che diventano crisi economica no al momento tutti sono favorevoli la maggioranza degli italiani è favorevole alle sanzioni è favorevole a tutti quello che può aiutare a fermare questa forza questa violenza è ovvio che al di là delle mamme i papà sono preoccupati i ragazzi sono preoccupati c'è una catena di solidarietà che coinvolge tutti perché le immagini che noi vediamo sono terribili e questa è una guerra testimoniata dai social dalla televisione 24 ore su 24 e la cosa più incredibile che noi ci siamo sentiti dire nelle nostre interviste è il fatto che nel 2022 non si poteva pensare a una cosa di questo tipo cioè la globalizzazione ha fatto pensare a tutti che le guerre potevano essere digitali ha fatto pensare a tutti che non ci sarebbero state queste situazioni invece siamo ripiombati come d'incanto all'inizio dello scorso secolo ed è una cosa terribile e tutte non è un fatto solo delle madri perché il problema vero è che questa guerra noi non riusciamo a vedere un inizio una fine non riusciamo a trovare una soluzione perché siamo martoriati da quelli che sono gli interessi geopolitici gli interessi militari il racconto degli interessi economici degli interessi umanitari e della storia che c'è dietro e quindi in tutto questo c'è un fortissimo disorientamento delle persone perché non trovano dei punti di riferimento chiari a proposito dei punti di riferimento Alessandra voglio tornare da padre Andrea perché Alessio ci leggeva la notizia della telefonata tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill voglio sentire da padre Andrea che effetto gli fa sapere di questa telefonata e di questo lungo colloquio e dell'auspicio che si arrivi velocemente a trovare una pace giusta così ci dice l'agenzia che riferisce di questa telefonata intanto padre Andrea voglio sapere perché lei parla così bene l'italiano e poi mi dica che cosa pensa della telefonata prego sono stato a Roma ringraziando il Signore e ringraziando a tutti gli amici italiani mi sono trovato molto bene sono stato studente della Pontificia Università Lateranense sono stato anche ausiliare di una parrocchia ausiliare ad aiuto a una parrocchia al centro di Roma e ringrazio tutti che adesso guardano e sentono e pregano veramente sono unito con voi vi abbraccio vi e noi abbracciamo lei padre Andrea prego di non fermarvi con la preghiera perché qui serve tanta preghiera secondo me con questa chiamata che si sono stati tra due persone una persona grandissima il nostro caro Papa Francesco e un'altra persona purtroppo non sono diplomatico non voglio dire le parole brusche rigide ma lasciamo così come sia io credo soltanto nella forza di Papa Francesco che 25 marzo vorrà dedicare la Russia quella aggressore come è e Ucraina come vittima di questa aggressione molto molto orribile Papa Francesco vuole dedicare questi paesi nelle mani della Madonna di Fatima e specialmente di questo giorno quando sarà una festa di annunciazione della Madonna sarà un grande richiamo a tutti i fedeli a tutti i cristiani del mondo per la preghiera per la pace noi in parrocchia domani riceviamo una statua pellegrina della Madonna di Fatima che adesso proprio sta in viaggio dal Portogallo fino qua e domani Padre Andrea siamo con lei e siamo con voi noi continuiamo a raccontare quello che succede e si prende cura di Elena grazie mi raccomando che per noi è preziosa servite alla verità che Dio benedica no ma lui si prende cura di tutti non solo di me no ma in particolare di Elena ognuno si assicura i figli suoi grazie grazie davvero grazie Padre Andrea allora mi riaprite per favore Di Maio voglio vedere a che punto siamo apriamo l'audio e torno anche da Vlad e dal professor Eletti Alessio che succede c'è Di Maio Di Maio arriva una dichiarazione del Cremlino sulla bozza di accordo che è stata diffusa dai giornali partendo dal Financial Times è troppo presto per svelare qualsiasi schema di potenziare accordo sulla soluzione del conflitto in Ucraina lo ha dichiarato un portavoce del Cremlino a proposito della bozza che è circolata in queste ultime ore che non è stata smentita semplicemente detto è troppo presto adesso ci torniamo anche su questo riapritemi per favore Di Maio chiedo scusa la regia vi sto facendo impazzire ma è così questo passo ha anche l'importante effetto pratico di accelerare il procedimento sul piano politico si tratta di un ulteriore segnale del fermo impegno della comunità internazionale per riaffermare a fronte dell'uso spregiudicato della forza a cui stiamo assistendo i principi del diritto internazionale ed è coerente con il tradizionale sostegno dell'Italia alla Corte e allo Statuto di Roma la Corte internazionale di giustizia dell'ONU inoltre si pronuncerà oggi proprio in queste ore sulla richiesta urgente dell'Ucraina affinché la Russia fermi immediatamente l'invasione l'Ucraina accusa la Russia di cercare illegalmente di giustificare la sua guerra attribuendo falsamente a Kiev un genocidio nella regione del Donbass per questo Kiev ha chiesto che la Corte prenda misure urgenti e ordini alla Russia di sospendere immediatamente le operazioni militare torniamo ancora da Di Maio però nel frattempo chiederei a Luca Luca Sappino che lo ascoltava passo passo di dirci se ci sono stati dei passaggi particolarmente significativi anche per il nostro dibattito Luca guarda intanto mi hanno colpito le parole che Di Maio ha usato per descrivere la situazione a Kiev ha detto che Kiev è assediata appare in una condizione disperata sono state le parole pronunciate dal Ministro che poi è passato a elencare gli aiuti che l'Italia ha mandato in Ucraina e nei paesi vicini che accolgono il primo flusso di profughi ecco profughi che si aspetta aumentino moltissimo ci sono 3 milioni quelli arrivati all'unimento in Europa arriveranno rapidamente a 5 e quindi anche il numero di profughi che arriverà in Italia crescerà moltissimo rispetto ai 47 mila arrivati ad oggi ed ecco perché sarà un passaggio più avanti nella sua relazione il governo sarà per fare un nuovo decreto sulla questione profughi però ti chiedo ha fatto riferimento alle ultime parole di Zelensky quelle stamattina in collegamento con gli Stati Uniti con il congresso americano ancora no non ha citato la richiesta di una flight zone non ha citato la richiesta di aerei esatto quello a quello facevo riferimento non lo ha citato allora poi torniamo di nuovo da Di Maio però chiedo intanto al professor Revelli e a Vlad non so se avete seguito erano più o meno le due noi l'abbiamo seguito in diretta il discorso di Zelensky collegato con il congresso americano ad un certo punto Zelensky dice sono tre settimane che noi stiamo stiamo vivendo il nostro 11 settembre si rivolge agli americani e dice noi vogliamo la flight zone stanno sparando sulla gente ci stanno bombardando non basta questo per farvi decidere ma seppure non volete aiutarci con la no flight zone dateci degli aerei voi ce li avete ma non li vediamo nei nostri cieli Revelli lo capisco capisco perfettamente che il capo del governo ucraino chieda un sostegno con ogni mezzo sapendo che ci sono dei limiti alle possibilità di sostegno della loro lotta e di espressione della solidarietà che mi pare sia incondizionata a livello internazionale quantomeno per quanto riguarda l'Occidente naturalmente la no flight zone è una richiesta impossibile impossibile per la la semplice ragione che significerebbe un allargamento automatico del conflitto è un disastro non solo per chi non è ancora coinvolto ma anche per chi è nell'epicentro di quel conflitto e allora lui dice almeno dateci più armi aveva già detto le armi che ci date durano 20 ore dateci più armi consentiteci di difenderci oggi parla di sistemi per difendersi ulteriori parla di aerei e invece invece non va bene professor Revelli ma credo che come dire l'armamento che è stato dato all'Ucraina non solo in questi giorni in questi mesi in questi anni è massiccio è massiccio in volume di armi è massiccio dal punto di vista delle tecnologie e infatti come dire stanno dando filo da torcere ai russi in misura probabilmente imprevista dai russi dai russi stessi non so cosa significhi la richiesta di aerei da quali basi possono partire che significato abbia tutto questo l'operazione polacca di trasferimento di aerei è stata giudicata impraticabile dal Pentagono e comunque il problema è che per chi ha la responsabilità dall'esterno dell'Ucraina e noi siamo all'esterno non possiamo sostituirci agli ucraini con tutta la simpatia per la loro per la loro causa ma io credo per chi ha la possibilità di ragionare stando al riparo dalle bombe questa è una condizione privilegiata non c'è dubbio però appare abbastanza evidente in termini di uso della ragione che quella richiesta non può essere accolta voglio sentire anche soprattutto che questa guerra va frenata raffreddata e abbassata di livello e contenuta nelle sue dimensioni perché altrimenti il risultato non potrà che essere un numero maggiore di vittime di vittime del popolo stesso del presidente Zelensky dei suoi cittadini che perderebbero ulteriormente in numero molto maggiore la vita rendiamoci conto raffreddare il conflitto aspetta aspetta professore Velli perché vorrei sentire anche Vlad anche perché Tiziana Biden Joe Biden parlerà in risposta a Zelensky alle 16.45 quindi daremo conto nel corso della trasmissione delle sue parole per annunciare altri aiuti militari non si parla di aerei non si parla è un pacchetto che era già stato però annuncia altri aiuti militari magari Vlad la considera una buona notizia ti chiedo Vlad dice il professor Revelli bisogna raffreddarlo questo conflitto ora io non credo che nessuno di voi voglia riscaldarlo o surriscaldarlo il conflitto però abbiamo sentito Zelensky in maniera molto accorata ancora oggi insistere no flight zone dateci più armi dateci aerei tra le altre cose Zelensky ha ripetuto più volte qui sparano sui nostri sogni che sono uguali ai vostri quindi consentiteci di potercele avere ancora dei sogni prego Vlad si ma senza anche cadere nella retorica io non capisco quando ci dicono bisogna raffreddare questo conflitto in che senso ci dobbiamo arrendere beh se ci dobbiamo arrendere sono attese che non saranno mai non saranno mai fatte da noi perché nelle città occupate la gente inizia a sparire tutti quelli che si sono dimostrati contrari all'occupazione russa iniziano a sparire uno per uno oggi è sparito un altro sindaco il sindaco della cittadina di Skadovsk è questo che dobbiamo aspettarci cioè questo è il futuro io capisco che voi si dicono noi siamo privilegiati non cadono le bombe no non è affatto di essere privilegiati o no perché anche in Italia tante persone che sono privilegiate come dite come voi non dicono cose così vigliacche perché dire agli ucraini arrendetevi oppure bisogna trovare un compromesso sì un compromesso certamente va trovato cioè a dire la verità ma le notizie che stanno arrivando ti confortano è la sensazione che si stia arrivando da qualche parte Vlad guarda io so determinate cose quello che posso dire che effettivamente sì stanno lavorando su un documento che abbia appeso giuridico e non solo politico ok io dico le parti Russia e Ucraina perché in queste interlocuzioni che avvengono online ogni giorno sono è un processo molto difficile perché la Russia continua a chiedere che Zelensky attizzi la bandiera bianca l'Ucraina invece dice no noi non ci arrendiamo siamo disposti a trattare alcune cose ma certo non la nostra integrità territoriale che poi non è la questione che è un percorso vero che sta portando dei piccoli risultati progressivamente no guarda per adesso non sta portando a niente perché continuano a bombardare ad uccidere i civili cioè questo documento avrà dei risultati quando lo vediamo durante questo processo come ha sempre fatto la Russia loro inaspriscono l'attacco militare il problema dei russi è che due terzi dei loro missili balistici sparati o da terra o d'aria vanno a colpire obiettivi civili cioè distruggono case distruggono ospedali capite è quello il problema poi Putin nella sua propaganda nelle sue agenzie può dire quello che gli pare il suo patriarca da camera Kirill che è a favore di questa guerra lui può chiamare chi gli pare il Papa effettivamente Francesco parla con tutti parla anche con dei miserabili come Kirill ma queste sono questioni un po' diverse se noi parliamo dal punto di vista delle aspettative guardate noi cerchiamo anche perché insomma mi sembra abbastanza logico di non parlare di quali armi quali paese ci può far arrivare in Ucraina perché beh come insomma dire ai russi guardate qui che dovete colpire quindi diciamo che sono un po' un tabù questi discorsi in Ucraina cioè non tabù non è che ce lo impediscono però insomma nessuno darà dei commentari a proposito anche off record perché insomma capendo che è una cosa troppo delicata se proprio volete sapere cosa dicono per esempio gli americani la CIA per esempio citando fonti sue dicono che gli Stati Uniti stanno cercando di far arrivare in Ucraina dei sistemi antimissilistici cioè non degli aerei ma dei sistemi antimissilistici che sarebbe già una gran cosa perché effettivamente se la Nato come la Nato insomma ha dentro di sé dentro questa alianza ci sono troppi paesi canaglie troppi paesi vigliacchi per poter difendere un paese aggredito come l'Ucraina nonostante questo paese insomma dichiari tante cose non tutti non tutti per carità quelli che non fanno arrivare le armi non solo quelli che non fanno arrivare le armi ma proprio quelli che non fanno arrivare le armi quelli che impediscono agli altri di far arrivare le armi e così via perché insomma è tutta una questione come l'Unione Europea per esempio sempre la stessa storia ieri in Ucraina sono venuti tre premier volato della Repubblica ciaca e Slovenia dove sono i francesi dove sono i tedeschi hanno così paura ma non so questi toni è molto difficile come dire condurre un dialogo equilibrato e mi rendo conto che le posizioni sono squilibrate tra chi è sul terreno e chi no quindi non non aiuta devo dire sinceramente non aiuta la causa degli ucraini l'uso degli insulti o delle accuse di aver paura o di essere vigliacchi a quei paesi non dico alle persone ma a quei paesi che possono esprimere la loro solidarietà in forme anche diverse da quelle dell'armamento così come io sono convinto che è pericoloso illudere il popolo ucraino di un aiuto che non potrebbe venire è molto facile per i politici o per i giornalisti o per le opinion leader dire che bisognerebbe armare ulteriormente con armi più letali con armi più micidiali con l'aviazione eccetera non costa nulla spendere queste parole si illude semplicemente il popolo ucraino di avere una possibilità superiore a quella che è la realtà di ricevere aiuto dalla comunità internazionale la comunità internazionale per per sua natura ha un riflesso anche egoistico reagisce facendo un calcolo di mezzi e di fini non è disponibile a rischiare oltre certi limiti un allarcamento della guerra illudervi che sia possibile ottenere più aiuto di quello che in realtà è possibile non è giusto a mio avviso è scorretto magari ci si salva dall'accusa di vigliaccheria ma non non si non si fa un favore al popolo ucraico mi riaprite per favore Di Maio che voglio sentire a questo proposito se ci sono riferimenti alla questione delle armi nel suo discorso sentiamo intanto a che punto è arrivato e poi passiamo da Luca Sappino apritemelo a tutela delle nostre imprese lo stesso vale per le modifiche alla salvaguardia sull'acciaio ora all'esame della commissione europea per supplire alla carenza di prodotti siderurgici provenienti da Russia e Bielorussia che siamo alle ricadute economiche sulle imprese e sulle famiglie immagino Luca Sappino mi aggiorni sì siamo al capitolo sanzioni Di Maio ha detto che è pronto che l'Europa è pronta a aumentarle e che Putin sta portando la Russia sull'orlo del collasso economico di armi ha parlato o meglio ha ripetuto le parole di Stoltenberg dicendo che la Nato non è parte del conflitto e non cerca lo scontro e quindi ha ribadito il no della Nato e dell'Italia a interventi come quello della no-fly zone Nel frattempo ci sono le notizie che arrivano dagli Stati Uniti che parrebbero indicare un ulteriore passo avanti sul piano degli armamenti e anche Stoltenberg quindi Nato manderemo altri aiuti militari a Kiev aiuti militari tra i quali non dovrebbero essere compresi aerei non dovrebbero essere compresi anche perché se no sarebbero titolo immediato che probabilmente sono come quelli che abbiamo già mandato e di cui già avevamo discusso nei giorni scorsi però invece vediamo se c'è oggettivamente un di più che gli Stati Uniti sono disponibili a mandare in Ucraina Nel frattempo ti chiedo Alessandra quello a cui assistiamo in questi giorni in Italia è anche un dibattito su chi si fa qualche domanda in più per esempio su come siamo arrivati a questa guerra per esempio su come si esce da questa guerra magari analizzando come ci siamo arrivati e su come diventa difficile diciamo stare provare a porsi delle domande farsi degli interrogativi perché in automatico diventi una parte o diventi l'altra no? Eh sì sì perché purtroppo a me spiace ma anche il popolo italiano intervistato nel merito si divide a metà una parte il 39 6 dice ok andiamo avanti per il conflitto a tutti i costi lo pensa solo il 6% sono disponibili a pagare maggiormente in sanzioni economiche ma a tempo cioè fino a un anno e il 38 2 dice attenzione cerchiamo di trovare un punto d'insieme qualcosa che riesca a unire perché questa guerra ha messo improvvisamente in luce intanto la debolezza di quello che per noi significava l'Europa e dall'altro lato ha posto anche le nostre vulnerabilità perché noi siamo molto vicini perché Trieste è più vicina a Kiev che a Palermo quindi già questo ce lo rende come dire di fianco e poi perché è così documentata è così documentata come è stato descritto di immagini di vita perché il mercato è un luogo che tutti noi frequentiamo le case allora è vero che Putin anche se come dire raggiunge un compromesso comunque ha perso la sua immagine nel mondo lui vi lo ricordate no? lui era quell'uomo forte quello della pesca dell'orso la lotta a torso nudo quell'immagine è un'immagine persa quindi quello che sta accadendo è che la paura anche per il nostro paese si sta tramutando in un qualcosa che potrebbe coinvolgerci e quelle parole di Vlad sono tanto rigide tanto fredde quanto il dolore che sta provando che per noi è difficilissimo per quanto cercheremo di poter entrare cercassimo di entrare nei suoi panni è impossibile comunque sono i suoi i panni e quindi si fa si fa una certa fatica non c'è dubbio e quindi anche il popolo italiano dice attenzione cerchiamo di trovare un compromesso un punto d'incontro e nel punto d'incontro quello che spaventa di più è proprio il fatto che Vladimir Putin ha perso la sua immagine quindi in qualsiasi caso ha perso la sua guerra perché è una guerra che è fatta d'immagine per lui lui pensava di poter arrivare in una maniera molto più semplice e invece no è un po' come avete presente quando noi facciamo un nodo con una corda con l'acqua è difficilissimo da sciogliere ecco lui si trova in quella situazione e non riesce più a scioglierlo e quindi quello che fa più paura da noi che vediamo da fuori è proprio l'immagine di quello che potrebbe compiere un gesto estremo perché messo alle strette allora ti fermo Alessandra soltanto perché Maria Grazia Girina ci aiuta prima di andare in pubblicità e quindi di salutarvi ci aiuta a fare un ragionamento a noi piace ascoltare tutte le voci e oggi al di là di quello che vi raccontiamo tutti i giorni tutti i giorni noi siamo collegati con quello che succede in Ucraina raccontiamo tutto e quindi vogliamo raccontare anche di questa disputa che sembra soltanto una disputa intellettuale da gente seduta sul divano ma che forse merita un minimo di attenzione e cioè quando noi ci interroghiamo su che cosa è accaduto prima come siamo arrivati ad oggi è davvero una domanda leziosa o invece ci serve per arrivare ad una soluzione cioè quanto è importante capire come sono andate le cose per poter immaginare come si potranno risolvere e soprattutto quale futuro attende gli ucraini per primi e poi tutti noi vi faccio vedere le posizioni perché sembra che oggi o stai da una parte o stai dall'altra che non puoi avere diciamo il dubbio e interrogarti Maria Grazia Gerina e poi torno per i saluti la guerra le vittime i profughi i civili fatti bersaglio anziani e bambini a Mariupol come Erpin l'escalation terribile degli ultimi giorni tutto quello che accade davanti ai nostri occhi fa apparire ancora più fuori fuoco il dibattito italiano sulla guerra ucraina fatto di accuse reciproche più che di voglia di capire ma se lei vede un energumeno che picchia un ragazzino lei si mette a guardare o protegge il ragazzino dall'energumeno ci troviamo di fronte a un energumeno sul terreno geoglipi è già propaganda guerra fondaia da una parte chi difende la scelta di armare gli ucraini dall'altra chi critica quella scelta per tante ragioni noi diciamo la no fly zone no perché se no scoppia una guerra e vengono a uccidere anche a noi italiani francesi e tedeschi però gli ucraini li possiamo armare perché così creiamo una serie in ucraina dove muoiono soltanto gli ucraini perché Putin li ucciderà tutti se noi riempiamo l'ucraina di armi c'è chi pensa che mandare armi allungherà il massacro e produrrà ancora più morti e chi contesta la spiegazione troppo semplicistica della guerra scatenata solo dalla pazzia di Putin se noi accettiamo semplicemente che c'è quello che è invaso ed è il colpevole Putin che è un pazzo Hitler e poi ci sono gli effetti devastanti che vediamo è una semplificazione né con Putin né con la Nato e neppure con Zelensky anche perché all'origine del sostegno al leader ucraino secondo lo storico Luciano Canfora ci sarebbe una lettura sbagliata della storia recente della rivoluzione di Maidan che nel 2014 rovesciò il filo russo Janukovic che lui considera un golpe c'è chi gli ha risposto limitandosi al faccekin ricordandogli per esempio che Zelensky è stato democraticamente eletto cinque anni dopo nel 2019 e chi invece lo ha etichettato come putiniano accusa in queste settimane usata spesso indiscriminatamente contro chi davvero da Putin era rimasto folgorato contro i nostalgici dell'URSS ma anche contro chi invece semplicemente dissente contestando l'invio delle armi all'Ucraina pacifisti attivisti della rete del disarmo un fronte largo che va dal cattolicesimo impegnato alla CGL Grazie a Vladislav Maestruk grazie ad Alessandra Ghislerio devo andare in pubblicità il professor Revelli resta con noi qualche minuto e torniamo grazie davvero agli ospiti sto sto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti